Ciao a tutti sono Ten, oggi gioco con Nier Reincarnation che è uscito fuori due nuove banne Uno già un po' quasi tipo una settimana forse o anche leggermente di più E l'altro appena è uscito stamattina, oggi pomeriggio più o meno Che don't care forse fare l'evento di questo qua che è un nuovo personaggio che è uscito fuori Bloody Assassin e questo qua è un natalizio di United Priors Ora vi dico che sono due personaggi della Madonna, perché abbiamo Sono un po' indeciso perché ho 20.000 gemme, però sono un po' indeciso quali da puntare Perché abbiamo, vediamo prima lei la skill di base Bella scena con il, non so, un simbolo, un fiore, bella Questo qua con il move, attacca No scusate, abbiamo messo partito Buono L'altro Questo mi fa un po' cagare quel punto, è solo lei la bambinetta Ok, prima guardiamo lei, la bloody Assassin Che non è male che sono tentato a prenderla, a puntarci perché Abbiamo, mosso prima, dando il 85% singolo enemy 4 time dura Può curare un status element per ogni aliato Si, buttolo via, così non mi fa schifo HP up del 20% di HP, avevo tanti HP Le stats ho visto adesso un po' equilibrate 3.500, 3.500, attacco difesa, agilità, normale ci sta Incrementa le stats del equipaggianto light affination weapon E' 40% così, lei è estremamente di luce Mi piace tanto la spada perché abbiamo skill della spada Recovery del 20% di HP degli aliati Tanta bella roba lei Abbiamo seconda mossa della spada Che fa un danno 35%, un solo nemico, 5 time Che riduce l'attacco al 30% al 30 secondi Abilità 15% di HP up Dopo abbiamo Difesa up, diciamo 10% Abbiamo anche l'artel, altre armi, Feynard's Lance Che fa del 55% a un solo nemico 4 time Incrementa a tutti gli aliati l'agilità del 20% di 10 secondi Abbiamo la seconda mossa Che abbiamo il 50% a un solo nemico 3 time dura Incrementa, diciamo, se stesso Il critical rate del 10% di 10 secondi Abilità, incrementa light damage del 30% Abbiamo l'agilità del 20%, agilità up del 20% per 60 secondi Carina La spadozza, quella pesante, non leggera No, forse quella leggera Abbiamo 35% sempre di luce Di danno, un solo nemico dura 4 time E incrementa damage per 2 Se vi facciamo un change more del 15% per 10 secondi Buttolo via 40% di un solo nemico 30 time Sì, 30 time 30 time Per 10 secondi Per 8% su stesso In pratica Dopo abbiamo Che mi interessa perché È molto carina La La fangulo Akea Mi piace Perché è molto carina Bellissimo design anche Però il problema Questa qua È Che lei è Fultatamente Pericolosa Perché Ma su prima cosa fa Incrementa Tutti gli atti La difesa del 30% Da 30 secondi E riduce Tutti gli atti La skill down Del tempo Del 20% È tanta roba È questa È tanta roba Di unire Dopo Vedete che è una che Fa pochi danni Ma una che tank A 3700 Già aumenta il 30% Di aliati Aliati Attacca del 15% 60 secondi Scusate E A tutti Aliati Agita up Del 15% A 60 secondi E a quel punto È tanta roba Arma Che non è male 35% Sono nemico 4 time Incrementa tutti gli atti Del 30% Per 30 secondi Ulteriore 30% Di un bel 60% Può arrivare È Tanca tanto Un danno 50% Un suo nemico Incrementa Se stessa In pratica Agilità del 10% Per 10 secondi Ci sta 15% Up Di HP E Agilità Up Del 20% Per 60 secondi Oggi Sto registrando Prima Oggi Sto registrando Su Joe Il cervello Fuori Lui Levania Fa un po' Cagare Quando mi interessa 70% Di danno Un suo nemico 5 time Incrementa Tutti gli atti Light damage Tanto ha bella roba E come Arma Abbiamo 55% Di damage 4 time Dura Incrementa Tutti gli atti La difesa 20% Carino Però Confronta All'altra Preferisco Secondo attacco 50% Un solo nemico 3 time Incrementa Se stessa La gita Di 10 secondi Del 10% Abilità Incrementa Light damage Del 30% Non male E Attacca Up Del 10% Sono un po' Tentato A quel punto Perché Aver lei Che aumenta La difesa E riduce Il 20% Del skill Damage E' tanta roba Fa un altro In più Non penso Che fa vedere Il team Arena E' un bot Che faccio più Arena Vediamo Non fa vedere Ecco qua Abbiamo Beh Rebombist A quel punto Abbiamo Ancora Sempre Gail E vabbè Lei A2 Non posso Averla Problema Di qua Vabbè Più Mino E 6 Di solito Ancora Abbiamo Gaa Abbiamo Ancora Levagna Però Avescino Quella Vecchia E Ha sempre A2 Questo Non Noelle Non ho Ce l'ho Questo qua Forse è già uscito Un banner Però Mi sono dimenticato A farlo Perché è un periodo Dopo Non so Fermato C'è sempre La coppia O2 C'è sempre Quello E questo qua Aspetta Ma scusa Non è No è questo No questo non è E quello Eh sono un po' Tintato Che ridurre Vedete La E tanta roba Questa C'ho già Una che mi cura Quale punto Quale punto Su questo Vai Spendiamo Tutto Perché mi interessa Riusciamo a trovare Vediamo un po' Se per caso Se Connection Ok Se ci mette Ok Porta oro Dio mio Mi porta Un po' Sfiglia Porta oro Oh Doppia Doppia Bella Non mi ricordo più Che giro Che fa A quel punto Ok Personaggio Si personaggio Che cazzo mi dai Red Ring Bell App Custom Ok Perfetto dai Perfetto Che la Diciamo La volevo Quello Su arma Perfetto Secondo Una Tavoce Oddio Questo ce l'ho Già Vuoi andare un po' Su qua Perché dovevo Avere un po' Di copie Quello Ok Avevo C'è un'altra Una fake out Era Cosa fa Questo Scusa Damage Single time Single time Adesso 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 Ci c'è Che chance Di friggere Blind Carino Può bloccare Carino Questa Bello Bello Può bloccare Se un nemico Riduce la difesa Del 3% Massimale Quanto può arrivare Dell'8% Carino Può bloccare Carino Vai Perché Quanto mi interessa Lei Perché Dovevo un po' Sbloccarla A quel punto Dovevo un po' Livellarla Fa il limite Break Porta Nera Di solito Porta Ora Un po' Sfiga Però Questa Questa Volta Vabbè Scrive Orco 2 Si schippa Come ci fosse Domani La fanculo Vai Yes Devo fare ancora L'evento Del 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 Di Bloody Assassin Devo fare Ancora vuota Porco 2 Apre la porta Di merda Pazzo Cudi Ho capito Mi dà la botta Mi dà una botta Furtinata all'inizio E poi basta Sti cazzi Dico Me l'hai Ma hai dato Meno una seconda copia E mi sono più contenta Che almeno Porta livello A 85 Per punto C'ha Fisco di più Se vuoi Porta ancora Nera Orco I 2 Take out Oh Doppio Meno mal Meno mal Tutte armi Sono Mi ce l'è Cazzo Beh con l'arma Darkness Non è male Che può fare blind Che può bloccare Non è bruttissimo Devo potenziarla Potrei dare La mia Personaggio La Levania Cazzo La bestia Il mostriciatolo Il mostro bastardo Eh Rebel Openness C C C C C C C Cosa La bestia No Epic Custom Cosa C'era Ce l'ho Già Non mi ricordo No Non ce l'ho Perché Non mi è uscito Ah Quello Che Che Leader Del Del Vento Di oro Dai Non è Che Pullato Avello Non mi fa Schifo Quello Perché Mi potenzia Il team Del vento Ok Il sciamano Buttolo Via Buttolo Via Sono contento Tac Spada Che lascia Ci sta Ci sta Dai Sono contento Adesso Mi diventa Adesso Che il personaggino Questo qua E' quello Che Il precedente Banner Lo fossi Duto Il precedente Banner Che Quello Che Potenzia E' leader E' leader Del 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 Vento Al Punto Delle Armi Così Porta Nera Porta Fortuna Vabbè Ci sta Mi da Mi da Non Doppio Di Lei Bastardo L'ultima Per 300 gemme Quasi 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 Diciamo Non far Mare Lucemente L'evento 300 gemme Porta Ancora Nera Ah Sto Cazzo Ok Perfetto No Devo tornare indietro Perché Devo farmare Quei 300 gemme Vediamo se Allora Sono tanto fortunato Ho trovato A primo scato Lei E' un personaggio Muovo Così Ci sta Ci sta Non dico Niente Hanno messo Anche Skip ticket Così Tanta roba Che sono contento Tac Aspetta Facciamo un altro L'evento Mi è piaciuto Lei Che è Tanta roba Perché Quello Che Diciamo Bassare Ok No La torretta Ci ho messo La torre Non ho Ok Questo qua L'ho già Farmata Questo qua L'ho farmato O niente Quei 300 gemme Le tengo da parte Massimo Se riuscivo a farmare Meglio Con il punto Vedi che L'ho già fatto Quasi tutti Gli eventi Sì 60 Eh Questa qua Personaggio Ma non ti dà Il Non ti dà Lei 100 gemme Tanta roba È più forte Vabbè Questa Questa Cazza È figa Porco Due E niente Qual punto Sono due Molto buoni Perché Questo qua Che può curare Tutti gli altri 20% Non è male Però Confronto Una Che mi può Dimuire E mi pompa La difesa Tutti gli alleati Del Cioè che Mi viene Grattare il naso Non so perché Ho la Q2 Etichette Le faccio da sola Non penso Che trovo Qualcosa Di bello Quello È Friamo un po' Un cazzo Quello Mi è piaciuto Lei Di più Perché Tanta roba Perché Quello Per questo Perché Incrementa Tutti gli altri Così Però Riduce Le altri Da skill Damage Da skill Codown Del 20% Tanta roba È quello Potrei lanciare Mosse supreme A go go Non dico a go go Però a quello Tanta roba Questo Diciamo Lei È molto buono Per la skill Perché È tanta roba Che questo qua Posso recuperare Come cazzo Mi pare In pratica È una mosso Normale A quel punto È tanta roba Che mi può curare Però È un mosso Supremo Che mi può Il mosso Supremo Di lei Che mi cura Le stats Diciamo Le 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 Status Alternative Così È un bel Mosso Perché mi cura Però Più Visco Puntare Su lei Lei Fio Natalizio La Ulited Girl È tanta roba Per quello L'abilità Tanta roba Che aumenta L'attacco L'agilità Quindi Attacco più veloce L'arma Che non mi fa schifo Che mi pompa Ancora difesa Mi pompa ancora Se stessa l'agilità Così attacco per prima HP Ulteriore agilità Quindi Puntare più veloce Tanta roba Per quello Così Ci fermiamo Tra loro due Piscano Qual è Quello Extra Quello Del Skid down 20% Mi pompa Difesa Tanta roba Quello Così Ci fermiamo Se vi è piaciuto il video Lasciate un po' Like Iscriveteci Al prossimo video Ciao Ciao